Buonasera a tutti, sono Luigi, Anaracus e Prefite, benvenuti a questo nuovo video. Video gemello dell'inizio della spiegazione del 40 stamina di Gogete, il video della preparazione al 40 stamina di Janemba, il 40 stamina bistrattato. Salvo che non abbiate trovato Janemba, non ve ne fregherà molto di sto 40 stamina. E' quello di Gogete anche per mettersi alla prova, perché è un bel nemico finché non esce Gohan da fare. Abbiamo Janemba. Cosa si può dire? Di sicuro la facilità è enormemente superiore rispetto a Gogeta. E in generale non lo recco un 40 stamina difficile, anzi. Sul canale è già pronta la videoguida, se volete andare a vedere, in cui faccio anche una figura di merda. Perché per un minuscolo errore uso anche una gemma, però è facile. E' molto facile, se andassi a batterlo adesso col timpone nel PC, farebbe davvero una brutta fine. Allora, il Janemba Int non è nukeabile, ve lo dico immediatamente, scordatevi di andarci con il combo nuke. Si può provare unicamente a nukeare con una nuke AGL. Non ho mai provato, ma penso che con due colpi di Gotenks, con doppio Golden Freezer Leader, lo ammazzate. Non è possibile nukearlo con, né ora né mai, con team full fisico. Proprio venite disintegrati nella fase 1 di cui parleremo. E' Int, quindi neanche provateci a nukearlo con team tech. E' affrontabilissimo con team vari. No, queste informazioni sono date rispetto a com'era Janemba nella versione JAP. E' stata una cosa, vista da molti, che Goku Super Saiyan 3, appena uscito nel Global, è stato pesantemente nerfato. Gli hanno diminuito di molto la difesa. Fidatevi, quando è uscito prima volta nel JAP, potete chiedere anche ad altri giocatori, non era così facile. Quindi, non lamentatevi sempre che il JAP ha più cose di voi. Voi non avete dovuto affrontare l'orrore di Goku Super Saiyan 3 a piena potenza. Comunque, tornando a noi. Battaglia divisa in due fasi. Fase 1, Janemba gigante rosso, shotta. Tutto quello che posso dirvi è shotta. E non parlo solo di shot APG fisici. Shotta qualsiasi cosa che non sia AGL. E' una bestia assurda che lancia quasi sempre la special come primo attacco. La special fa dai 50 ai 60 mila danni a PG non AGL. Fa un male della madonna. Attacco una sola volta. Se non erro, potrei sbagliarmi, ma da quanto ricordo attacco una sola volta. Questo vi obbliga a non portare team full fisico. Questa sarà una cosa che d'ora in poi ci sarà sempre, ve lo dico. Il nemico è di un colore. Bene, aspettatevi che almeno una delle sue forme prima sia del colore che vi fa fuori il team se usate il colore forte. Esempio, Vegeta Super Saiyan 3, forza, andate con team full AGL. Vi apre in due il Vegeta Super Saiyan 3 tech prima. Per farvi l'esempio. Cosa c'è di particolare in questa battaglia? Diferenze di Gogeta che non ha particolari potenziamenti. Janemba ha un'abilità speciale che anche quella serve a ridurre il nuke. Però non è chissà quale cosa. Più o meno ogni inizio suo turno cambierà randomicamente tutte le orb. L'effetto è abbastanza rompi perché non potete pianificare. Dovete andare con le orb che ci sono e non potete pianificare per il turno successivo. Comunque non è un effetto negativo come poteva essere la rigenerazione di Cell o le orb caramella di Kid Buu. Altra particolarità della battaglia. Tutti i PG che hanno Super Saiyan come Link Skill otterranno un incredibile bonus di danno e di difesa e di attacco. Ergo si va con full Super Saiyan. Come ho detto non è obbligatorio un full Super Saiyan fisico. Dato che verrebbe disintegrato. Va benissimo un team multi, multicolor è Rainbow. Se avete Gogeta, Janemba implode. Se volete divertirvi e ridergli in faccia mettete come rider Goku Genki Dama fisico e prendetemi un amico Go Genki Dama fisico. Vedete sto Janemba. Potreste avere problemi nella fase 1 ma arrivati alla fase 2 se vi fa 10.000 danni con la special è già tanto. Fidatevi. Gli ridete in faccia. PG gratuiti ce ne sono una marea. PG consigliati ma molto consigliati Goten Super Saiyan. Molto molto consigliato un Bardak Super Saiyan. Due fisici eccezionali. E poi qualsiasi Super Saiyan. Qua andiamo davvero a livelli bassi di difficoltà. Lo reputo più o meno al livello di Kid Buu. Se non più basso. In cui è che una mia scala di 40 stamina è il più debole Broly. Perché lo batti con 2 PG. Poi c'è Kid Buu perché alla fin fine ok è snervante ma con un team forza lo Ari. Poi c'è Cell perché devi usare un attimo dei trick. Poi abbiamo Freezer e Gogeta insieme. Janem. Poi ci sarebbe. No. Poi abbiamo Goku Super Saiyan 3. Freezer, Gogeta. Vegeta, Gohan. Janemba. Lo vado a mettere tra Cell e Kid Buu. È un po' più snervante di Kid Buu perché fa più danni. Attaccherà 3 volte a turno. I danni saranno alti. Parecchio alti. Ma niente di eccezionale. Vale la pena fare questo 40 stamina. Il PG è forte. Il PG è una bestia. È fatta male la passiva. Molti di voi che ha visto il video della classifica JAP mese scorso sa che mi è dispiaciuto molto su Janemba. Appena è uscito lo reputavo una bestia assurda. Ce l'ho in un account secondario che non seguo praticamente più. L'ho provato. L'ho visto usare. Mi sono fatto i miei calcoli. La passiva è fatta male. La passiva è fatta molto male. Dovrebbe essere un tank che non riesce davvero a tankare. I veri tank sono quelli che vi fanno subire dai 15.000 danni in meno da chiunque più o meno. Lui comunque contro alcuni nemici 30.000 danni se li becca. È comunque un ottimo PG. Un leader int devastante. Ci sono un team che mi piacerebbe molto provare. Doppio di lui più il Freezer che otterrete nel 20 stamina di Freezer. Sarebbe interessantissimo. Però lascio il tempo che trova. Lascio il tempo che trova. Il vero leader in finale sarà Gohan. Il suo 20 stamina rilascia oggetti. Quindi non avrete Janemba ciccione per ora. La scelta non so quale sia. Ma vabbè. Accettiamolo. E poi non c'è veramente molto altro da dire della sua battaglia. Vedremo come al solito i vari PG utili ad andare contro di lui. Ce ne sono tanti. A differenza di altri 40 stamina questo vi permette di creare i team che volete. Io ve lo dico. Più andando avanti. Più questo 40 stamina diventerà uno scherzo. Il fatto che vi dia un bonus Super Saiyan. E che le carte migliori del gioco siano Super Saiyan. La rende davvero una sciocchezza. Quindi non vi preoccupate. Se lo trovate bene. Sarà un LR facile da avere. Se non lo trovate non vi perdete niente di che. Non è un PG essenziale. Va detto che ha sfortuna di uscire con una carta troppo sbagliata come Gogeta. Quindi passerà sempre in secondo piano un PG come questo. Detto questo ve ne ringrazio per avermi seguito. Vi auguro una buona giornata. Vi invito a mettere mi piace. Iscrivervi. A commentare soprattutto. Che sono le cose che sono più felice di leggere i vostri commenti. Andare anche nei gruppi e commentare là. Se vi interessa. Se magari mi seguite solo su YouTube. Potete benissimo andare anche nei gruppi. Ci sono anche altri ragazzi. Siamo in tanti. Detto questo vi saluto. E alla prossima con 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 questo video domenica. Non è idea quale sarà il prossimo video in cronologico uscire dopo di questo. Perché vi sicuro non esco un lunedì in questi video. Vabbè. Vi ringrazio per aver seguito. E alla prossima.